E noi siamo andati con gli esperti della CNR dove l'albero cadendo ha ucciso un motociclista a Roma per cercare di capire le condizioni dell'albero e di quelli ancora in piedi al lato della strada. Vediamo il servizio di Matteo Parlato. Siamo qui davanti al Pino Caduto, guardando le radici, che vede? Vedo un apparato radicale non ben sviluppato, vedo un suolo probabilmente non sufficientemente trenante, vedo la vicinanza di una strada, eccessiva vicinanza di una strada. Il problema del suolo non drenante potrebbe causare l'insorgere di marciumi radicali, che sono uno dei maggiori problemi della caduta di questo tipo di piante. Senta, alle nostre spalle c'è un altro di questi pini che è ancorato. Quel tipo di ancoraggio serve, funzionale? Lo definirei un ancoraggio che è meglio di niente, però sicuramente ancorare a quel livello sulle altre piante non scarica bene la forza ed inoltre la pianta è ancorata su una soltanto delle due branche dopo la biforcazione. Questo potrebbe causare un movimento di rotazione alla pianta che esercita delle forti sollecitazioni a livello del colletto della pianta, ovvero dove la pianta si inserisce al suolo. Ma quantomeno se dovesse cedere la corda impedisce che vada su strada? Sicuramente non è in grado di contenere la caduta, ma potrebbe direzionare la pianta in maniera tale che non vada a cadere secondo l'inclinazione, ma ad agiarsi sul bordo strada, potrebbe essere utile a quello. Comunque mi sembra di capire che non è un lavoro fatto a regola d'arte. Non credo che sia fatto a regola d'arte, non credo che chi l'ha fatto si sia preso la responsabilità del lavoro.